A Casatenovo, in provincia di Lecco, si è svolta la Marathon Bike della Brianza, su un percorso rinnovato di 49 km e 1250 m di dislivello. La gara brianzola ha richiamato atleti da tutta Italia e tantissimi campioni delle ruote grasse, come il russo del Sudal Likugan, Alexei Medvedev, Yuri Ragnoli, Scott Racing Team, con i compagni di squadra Andrassi Fredi, Jacopo Billi, in griglia anche lo specialista del cross country, il russo Anton Sintsov. Partenza alle ore 10. La gara non ha lunghissime salite, ma continui strappi, anche molto duri. E proprio i primi strappi fanno subito selezione. Davanti si porta il russo del Sudal Likugan, Alexei Medvedev, seguito da Sifredi e Valdrighi, e dietro tutti gli altri. Al venticinquesimo chilometro Medvedev viene raggiunto da Yuri Ragnoli, mentre ad inseguire ancora la coppia Sifredi-Valdrighi. La lotta tra Ragnoli e Medvedev continua fino all'ultima parte di gara. Negli ultimi chilometri ad allungare è Yuri Ragnoli, che va a vincere in solitaria la Marathon Bike della Brianza, con il tempo di un'ora e 47 minuti, un secondo, seguito in seconda posizione da Alexei Medvedev, terzo posto per Anton Sintsov. Per la gara femminile la più veloce è la trentina del Team Andres, vittoria Pietro Vito, seguita in seconda posizione da Marta Zanga, KTM Protec Eletrosystem, terzo posto per Karin Tosato, dell'MTB Lissone. Prego!